Io sono Fabio Dalimberti, sono un imprenditore, lavoro nel campo della sicurezza sul lavoro a un laboratorio del Bergamasco. Ho saputo di questo evento perché tramite i miei compagni del percorso avanzato Vita Straordinaria, tramite l'annuncio di patti. Ho deciso di partecipare a questo evento perché come tutti gli altri eventi ogni volta sblocco sempre qualcosa e sento che vado sempre via, sempre più leggero quando torno a casa. Cos'è cambiato in me? Il coraggio. Una cosa che non avevo prima, ero sempre governato dalla paura, mi nascondevo, sempre quando c'era da fare qualcosa, mettersi davanti alle persone, ero sempre in un angolino sperando che magari succedesse qualcosa così non mi chiamavano, invece oggi, dopo alcuni lavori fatti, sono io che decido di andare e mi diverto anche. Cosa mi porto a casa? Mi porto a casa la consapevolezza che nel momento in cui sei presente con te stesso e affronti le paure, qualcosa si sblocca sempre in meglio. Quindi mi porto a casa il fatto di aver imparato ad avere fiducia in me stesso, fiducia in tutto quello che mi circonda, nelle persone e tutto quello che mi aiuta. Nella mia vita applicherò tutto quello che ho scoperto, proprio nei momenti, forse nei momenti peggiori ho deciso di tornare a questi momenti in cui magari c'erano quelle volte in cui avevo paura e sapevo che però volevo raggiungere una sorta di obiettivo e questa cosa qui la userò come risorsa quando tornerò a casa. Questo può trasformare la mia vita solo in un senso positivo e direi di evoluzione perché sento che lascio sempre più pesi e quindi è una cosa in continuo. Io non sarò più come prima. Una singola parola per sintetizzare l'esperienza, io direi trasformativa. Infatti grazie perché da quando ti ho incontrata sul mio cammino tante cose stanno cambiando e ti ringrazio tantissimo, infatti ti sto promuovendo. Grazie mille perché la mia vita sta cambiando sempre di più e sempre meglio.